L'Abruzzo è in controtendenza rispetto al dato nazionale e soprattutto è in controtendenza rispetto al dato del centro-sud che viaggia a forte velocità come crescita. L'Abruzzo invece regredisce, regredisce sia in termini di PIL sia in termini di occupazione, aumenta la disoccupazione, diminuisce il numero delle aziende, ma soprattutto diminuiscono quell'attenzione che invece si potrebbe porgere su quelli che sono gli unici strumenti veri e fondi veri, le uniche risorse che oggi abbiamo in Abbruzzo, che sono i fondi comunitari. A oggi noi riscontriamo che c'è una spesa pressoché zero e questo non lo dice al solito Mauro Febbo, ma lo dicono gli esperti, lo dicono gli stessi ministeri, lo dice il fatto che due dei più alti dirigenti della spesa dei fondi comunitari, la dottoressa Gerardis e il dottor Savini, se ne sono andati e hanno abbandonato la nave. Oggi tutta l'Europa si sta attrezzando e anche l'Italia con le zone economicamente speciali, le famose ZES. Poi leggiamo, non comunicati di Forza Italia o di Mauro Febbo, ma comunicati in giornale Sole 24 Ore, che l'unica regione che non ha ancora presentato un progetto di ZES, che scadono peraltro il 30 novembre, è la regione Abruzzo. Uno degli elementi di criticità economica di questa regione, cioè il credito alle aziende, non abbiamo più le banche locali, e invece si fa riferimento per esempio alla Finlombardia. Noi la Finlombardia in Abruzzo ce l'abbiamo, si chiama Fira, che peraltro ha avuto anche il riconoscimento di banca, cioè ha avuto la qualifica della 106. In questo documento non si capisce se questa ipotesi viene presa in considerazione, se la società viene portata in auso, viene messa in liquidazione o che fine, se i fondi destinati al credito delle aziende, delle microaziende, che sono poi l'economia importante abruzzese, verrà attuato. Noi siamo stati in opposizione in questi anni, sempre pronta al dialogo, pronto a migliorare, perché noi non vorremmo che la regione Abruzzo, quando ci verrà riconsegnata nel 2019, sia più malata rispetto al malato che oggi.